L'ospedale Castelli di Verbania conferma i due bollini rosa. Li ha ricevuti oggi da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, sulla base di una scala da 1 a 3 per il biennio 2022-2023. Era già accaduto per i bienni 2018-19-2020-21. I bollini rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. Rispetto al biennio precedente, gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 335 a 354. Oltre a una crescita numerica, assistiamo a un miglioramento qualitativo dei servizi erogati. Una particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema delle lesioni perineali durante il parto, che riguarda circa l'85% delle donne. Per la terza edizione biennale consecutiva, ci è stato accordato di entrare nel network degli ospedali individuati all'interno del progetto Onda-Bollini-Rosa e con il riconoscimento di ben due bollini, commenta il dottor Alberto Arnulfo, direttore della Soc Ossitricia Ginecologia. Ciò rappresenta un grande motivo di orgoglio per tutti noi operatori sanitari e per il territorio del VCO, perché indica una grande sensibilità nel trattamento delle problematiche femminili a tutto tondo e un inconfutabile lavoro e impegno costante, soprattutto in quest'ultimo lustro, nell'offrire buona sanità e un'assistenza paragonabile o spesso migliore di grandi ospedali più blasonati. Per ciò che riguarda il Dipartimento Materno-Infantile, ha evidenziato Arnulfo nette testimonianza dal numero sempre crescente di mamme e papà che hanno scelto noi per dare alla luce i loro piccoli. Il direttore generale dell'azienda sanitaria esprime grande soddisfazione per questo importante riconoscimento.